Juventus, la lista UEFA svelata, decisione ufficiale su Pogba. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. La Juventus, come previsto, è stata un mercato molto discreto. Presi da altre questioni, a seguito delle vicende legali che hanno portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica, i bianconeri hanno preferito rimandare tutto alla prossima estate. Quando, almeno questo è il desiderio, la tempesta si è placata. Quindi, zero scambi ricevuti. Il più importante è Weston MC Kenny, che è stato scambiato con il Leeds in Premier League. Il tesoro che scaturirà dalla partenza del centrocampista americano, considerato sacrificabile, per ora non è stato utilizzato, ma pensiamo possa essere utile in pochi mesi. Ma per il mercato estivo ci sarà tempo. Ora il team di Massimiliano Allegri è chiamato a concentrarsi su quanto accade sul campo. Il rigore è stato un duro colpo e ha ribadito lo stesso allenatore livornese. Tuttavia, non può essere depresso pensando ai punti persi. La Juve deve continuare a credere nel ritorno in campionato. E soprattutto a fare bene nelle coppe, che potrebbero diventare l'unico modo di giocare in Europa il prossimo anno. L'Europa League diventa particolarmente importante in questo senso. Vincere significherebbe avere accesso alla prossima Champions League ed essere il capo del campionato. E in questo momento è forse la via più veloce per avere successo. Proprio nelle ultime ore, la Juventus ha annunciato il roster UEFA, con i nomi dei giocatori che possono essere convocati nella fase a eliminazione diretta della seconda competizione internazionale PA1 importante. Ricordiamo che la bianconera dovrà superare l'ostacolo dei play-off con il Nantes per entrare nei sedicesimi di finale. La sorpresa, se così possiamo definirla, è l'inserimento nella lista di Paul Pogba, che oggi ha dovuto fermarsi per un problema muscolare. Il tecnico intende. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.